Buongiorno a tutti, sono Federica Bernabini, direttrice del Rosero Terme Wellness Results. L'Euroterme è un hotel termale situato nel cuore dell'Appennino Tosco Romagnolo e a due passi delle foreste casentinesi, patrimonio UNESCO. L'Euroterme è uno stabilimento termale di 240 camere dove all'interno c'è la possibilità con la ricetta rossa di curarsi, quindi portando la ricetta rossa del medico c'è la possibilità di fare qualsiasi tipo di prevenzione. La nostra acqua è bicarbonata, alcalina, solfuria. L'Euroterme è un hotel caratterizzato per essere un family spa, quindi adatto anche per i bambini. La nostra tipologia di clientela è sicuramente la famiglia, perché l'acqua non è un'acqua che dà fastidio, è un'acqua che può essere adatta a qualsiasi tipo di bambino, quindi non c'è nessuna controindicazione. Sponsorizziamo tantissimo anche il territorio, perché chiaramente facciamo diversi pacchetti all'interno del nostro sito, trovate tanti pacchetti dove viene sponsorizzato il territorio per fare passeggiate, escursioni, escursioni sia trekking che nei bike. Troverete anche all'interno dell'hotel diverse biciclette in dotazione, le date direttamente in dotazione dell'hotel, proprio per andare a visitare tutti i nostri sentieri. I nostri sentieri sono bellissimi e dico spesso e volentieri, praticamente molto paragonabili a quelli del Trentino, sono solo da scoprire. Quindi diciamo che il territorio aiuta tantissimo la promozione anche dell'hotel. Quando il cliente della città viene qui, si innamora. La cosa difficile è sicuramente riuscirlo a portare, ma nel momento in cui riusciamo a portare un milanese o un romano o qualsiasi altro tipo praticamente di cliente, sicuramente tornano. Il cliente, il nuovo cliente è un cliente giovane che comunque vuole relax, vuole benessere, si ritaglia spesso e volentieri praticamente qualche giorno proprio per il proprio benessere. Siamo in collaborazione anche con tutti gli altri hotel e strutture ricettive del territorio e appunto abbiamo una collaborazione soprattutto per la piscina, quindi qualsiasi cliente che vada in altri hotel, agriturismi o strutture ricettive del posto ha una convenzione particolare per far entrare i propri clienti in piscina termale. Questo è proprio un valore aggiunto che ci dà la possibilità di collaborare e fare sinergia, quindi praticamente con la vallata, con il territorio. Abbiamo poi anche una convenzione con i percorsi del Savio e praticamente abbiamo delle experience con pacchetti termali, piscina, massaggi, spa. La collaborazione e la sinergia fra il territorio è sicuramente importantissima per noi.